Bella a tutti ragazzi come vi dicevo ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi finalmente dopo un casino di tempo Ritornati su Minecraft Ragazzi in tantissimi mi stavate chiedendo che fino aveva fatto Minecraft Ma purtroppo come ben zappeto ho avuto problemi con il programma di registrazione Quindi veramente scusatemi veramente tantissimo ma non è stata colpa mia Perché io appunto stavo qua davanti a registrare ore e ore Però poi perdevo tutto a causa del programma Comunque appunto siamo qua su PC per l'ennesima volta per me Perché per voi ancora non l'avete visto Vi mostro il mondo del PC che come potete vedere è uguale ed entico Anche le casse ci stanno gli stessi materiali Ho preso alcuni materiali e non li ho presi Tipo per esempio non mi sono portato via la terra e tutte queste cose qua Perché semplicemente perché mi noiava trasferire tutti Perché li devo andare a trasferire uno per uno Almeno credo io perché ancora non so giocare molto bene a Minecraft Comunque comunque allora qua come vedete questa è la nostra casa come potete vedere Ve la faccio vedere un po' tutta come vedete d'esterno è anche uguale Alla casa che avevamo su Play 4 Poi andando avanti là c'abbiamo il templio Che ovviamente prima veniva separato dal fiume d'acqua qua Dal corso d'acqua però l'abbiamo messo su una montagna L'ho voluto mettere su una montagna per ricordare appunto Però ho un po' modificato Tipo l'entrata l'ho fatta molto ma molto più bella A parere mio A parere mio è fatta molto ma molto più bene l'entrata come potete vedere Per qua c'abbiamo la casetta quella dove andranno messe tutte le casse Che come potete vedere purtroppo è abbandonata Vabbè ma poi in futuro metteremo le cose state tranquilli E poi qua c'abbiamo l'albero di Natale Il mega albero di Natale che avevo costruito su PS4 Però ovviamente l'avevo costruito male E qua su PC l'ho ricostruito molto più bene Poi andando avanti abbiamo là la mega fattoria Che ho modificato anche questa l'ho fatta più piccola E voi vi starete chiedendo perché l'hai fatta più piccola Semplicemente per rendere tutto più simmetrico possibile Infatti come potete vedere la scultura là in mondo è simmetrica E poi come ultima cosa che ho da farvi vedere Che appunto proviene dal vecchio mondo È questa casettina qua Come potete vedere questa qui è la casettina degli ingandesimi Che mi sembra che ho anche un po' modificato qua su PC no Però comunque fatemi sapere appunto come vi sembra la replica del mondo A me mi sembra che sia venuta piuttosto bene come replica Considerando solo solo che mi è toccato fare tutto blocco per blocco Ragazzi è stato un incubo Ragazzi non ci credo non mi fa dormire Fuori è notte zicci vedi è notte 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 Perché non posso dormire vabbè Adesso vi voglio fare vedere una cosa che ovviamente Io l'avevo scoperta nell'episodio che ho registrato Però ovviamente si è perso In pratica sentivo degli zombie da casa mia Io ho scavato sotto di me In cerca appunto di questi zombie Perché se sentivo degli zombie qualcosa ci doveva pure essere E scendendo in giù in giù ma tantissimo in giù Abbiamo trovato un game fottuto system Quindi vi lascio immaginare Qua sotto c'erano migliaia di zombie Infatti come vedete ci ho messo un casino di torce Perché appunto ero venuto qua Avevo messo tutte le torce possibili e immaginabili La continua il cave system Comunque veramente una roba assurda Ok usciamo di nuovo Comunque adesso il problema è che non so cosa fare in questo episodio Perché alcuni materiali li ho lasciati Quindi non posso neanche costruire il mob spawner Perché io volevo tipo costruirmi il mob spawner Aspettate ma è impressione mia Ah vabbè ma già quasi è notte Cioè isto minecraft per pc Non so se è impressione mia Ma le giornate passano in una maniera assurda Guardali là che ci sono Ci sono due miei colleghi Non esplodete morite tutti e due Boom E datemi anche le cose I punti RP Ragazzi facciamo una cosa Invece di stare qua a cazzeggiare A girovagare indorno Prendiamo delle torce Parto per giù Proprio per il basso E vado a vedere un attimo Cosa diavolo ci abbiamo là sotto Aspettate un attimo Io c'ho un libro ingandato Protezione 2 Che questo qui lo avevo anche su playstation Ma mi sembra che sulla play Il libro non si poteva utilizzare Vediamo un attimo se si può utilizzare Allora dovrei mettere la mia armatura Quindi devo levare tipo questo E andiamo a mettere Qua l'armatura Il libro Ecco qua infatti Costo dell'ingandamento E diventa corazza di diamante Con protezione 2 Mamma mia Quindi creiamola così Perfect Guarda come da picconate Al pavimento sto qui Allora ragazzi Che la nostra vendura Abbia inizio Vediamo di trovare Dei diamanti Proprio così Di next Iniziamo su pc E immediatamente Diamanti Infiniti ragazzi Cosa cavolo è sto coso Lo voglio sapere Assolutamente Io lo ammazzo Perché non so a cosa servia Boh Mi ha dato un qualcosa Che cazzo è sta cosa Sacca di inchiostro Ulala Allora Siamo giù E qua Io vedo che non ci sono le torce Quindi se non ci sono le torce Io da qua non ci ero andato E noi dobbiamo Ok Ho tolto un fungo Noi dobbiamo andare Nelle zone dove io non ero andato Perché dove ci sono le torce Ci sono stato praticamente Allora Qua vedo dell'oro ragazzi Vedo dell'oro Vedo dell'oro Quindi lo prendiamo Tranquillamente Che potrebbe servire A farci la mela d'oro Uuu Mamma mia ragazzi Che cos'è qua sto coso Ragazzi mi dovevo portare Il secchio d'acqua Me lo sono dimenticato Cavolo Ragazzi perché quei blocchi Sono più scuri Cioè che cavolo è Ma che cavolo Perché quei blocchi Carbone Dammelo Ragazzi la continua La continua Piazziamo un attimo Dei blocchi Ce la fai Bravissimo Sento degli zombie Allora piazziamo Passiamo qua Perfetto Sento nuovamente Degli zombie Non è che qua C'abbiamo un altro Cave system Vero Non è che c'abbiamo Un altro cave system Nei dintorni E difatti Come previsto Là c'abbiamo un cave system Piazziamo qua Una cosa così Ragazzi Che cazzo significa Come è nato Un viocco d'erba Qua Oh 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 Morice Maledetto Oh No 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 Uh 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 no 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 assolutamente no assolutamente no ma siamo pazzi? Siamo Pazzi No 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 te si no te te non hai capito come funziona la vita vieni qua che ti faccio fuori Ma combatti da uomo Dai andiamo andiamo Combatti da uomo Con le spade maledetto Guarda come muori Boh ragazzi io in un certo senso però sono anche in cerca di un mob spawner O cose così perché Nei mob spawner ci dovrebbero essere le targhette Io c'ho due cani in casa Che ha una vita Che non gli do il nome Perché praticamente non trovo un mob spawner per dargli appunto le targhette eccetera eccetera Ho sentito Quelco Oh No 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 Oh, 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 calmatevi Calmatevi, per favore Per favore, sali su tu Maledetto omino del cavolo Guardalo là Guardalo là, ragazzi, veramente Veramente, cioè, stiamo scherzando Appena entro Immediatamente qualcosa mi deve attaccare Mi deve distruggere Devono provare a disintegrarmi Il creeper, da dove cavolo veniva il creeper Ragazzi, cosa sta a fare questo ragno? È un po' ubriaco, mi sa che sì Mi sa che è ubriaco, perché sta lì Non mi attacca, boh, noi lo ammazziamo Tranquillamente, ragazzi, siccome sto trovando Uh, no, non ci credo, ragazzi Il mob spawner di ragni Il mob spawner di ragni Ho trovato, oddio No, ragazzi, sono felice In questo momento, sono felice Il mob spawner di ragni Andiamo immediatamente a distruggere Quel fottuto mob spawner de merda Piccone, piccone, distruggi, distruggi Sì, l'abbiamo distrutto, ammazza Sto ragno Incredibile Volevo il mob spawner E abbiamo trovato il mob spawner Mamma mia, ragà Mamma mia, che vuoto Mi sento felicissimo Oddio C'abbiamo la targhetta Mi serviva No Spazio pieno Butte via il fungo de merda Cazzo mene del fungo Raggruppiamo questo Il secchio potrebbe essere utile Buongiorno, ragazzi Poi della sella La corda me la porto solamente Perché appunto ho già della corda Quindi non occupa spazio Un'altra targhetta Ottimo Creo una coltivazione qua in basso Così se un giorno Riandremo qua In questo punto Ci ricorderemo Di questo momento Ragazzi L'ho piandata qua Così se un giorno Ritroveremo appunto Questa via Che cavolo Che cavolo fai Kamikaze Assurdo Richiedo il mob spawner E trovo il mob spawner Ok ragazzi Andiamo Ehm Boh Non lo so Io sono soddisfatto Io sono soddisfatto Molto soddisfatto Su minecraft Vabbè Adesso l'ho visto Quindi due Desideri realizzati In un unico episodio Boh ragazzi Siccome io non Troverò mai più La via di casa Questo ne sono sicuro Quindi inizio a scavare Verso l'alto Il problema è che È ancora là Perché io sono stupido Nella mia casa Ancora non ho Non ho costruito Nulla che possa Identificarla Quindi neanche una torre Quindi se vado a finire Lontano Ma lontano Ma lontano Non la vedrò mai La mia casa E quindi Credo che rimarremo qua A vita praticamente Adesso la cosa più bella Sarebbe spawnare Vicino casa Cioè spawnare Trovare Proprio l'uscita Davanti la casa Incredibile Che poi tra l'altro Ragazzi Mi dovete dire Dove si legge il livello In questa Tabella Del cavolo Perché io Non lo so Capire dov'è Boh ragazzi Non ne ho la più Paglia di idea Continuiamo a scavare Quindi qua sotto Nei commenti Fatemi sapere Qual è di questa Appunto L'altezza Comunque Essendo tipo Della lava E no 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 Quello che vi stavo Appena per dire Vi stavo per dire Essendo No 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 Piazza piazza Chiudi 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 Oh cazzo No no Sbagliavo tasto Ecco perché non piazzava Maledetto che sono Comunque Vi stavo proprio dicendo Essendo della lava Ho paura che Adesso le incontreremo E boom E arriva la lava Ragazzi inizio a sentire Della pioggia Quindi ho la presunzione Che siamo proprio Arrivati Però l'unico problema È che adesso Con la pioggia Sarà Il doppio Più difficile Però almeno Che fuori Non sia notte Perché se fuori È notte Siamo completamente Fottuti Ah ok no Giorno Uh ragazzi Ragazzi Non ci credo Non ci credo Non ci voglio credere Il culo più grande Della vita Ho avuto oggi Cioè ragazzi Vi rendete conto Troviamo il bomb spawner E trovo il mob spawner Usciamo davanti La casa E guardate Dove siamo usciti Davanti la casa Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ragazzi Qualcosa di veramente Incredibile per me Cioè non ci credo Non ci sto credendo Non ci sto credendo Di tanto sono emozionato Incredibilmente Perché io mi immaginavo Tipo Di uscire fuori In una foresta Perdermi E magari stare là Anche tipo tre episodi Per trovare casa Cioè assurdo Invece no Noi spawniamo immediatamente Qua Mamma mia Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo ritorno Su Minecraft Ragazzi A me mi è piaciuto Veramente tantissimo Meglio di così Questo episodio Non poteva andare Abbiamo trovato tutto A favore nostro Vi rendete conto Quindi veramente Lasciate tantissimi like Solo per questo Poi inoltre Fatemi anche sapere Come dobbiamo chiamare I due cagnolini Quindi Se volete passare Dalla pagine di Facebook Trovate in descrizione Iscrivetevi al canale Per i nuovi video Qua da veloce è tutto Bella raga Però Vabbè io risa Ragazzi Non ha senso Non ha senso Quello che sta succedendo In questa partita Vai là Vai là Saltiamo qua Che ci dovrebbe essere Qualco Che cazzo è No no Gente che mi trapassa Di sotto Allora qua c'è il check Prendiamolo Il mio mino si è accasciato Ovviamente Perché il mio mino O è bestia O è un mino normale Il mio zwirno en un choro Un minuto Il mio minuto È un minuto